A causa dei fenomeni di femminicidio che si sono verificati negli ultimi tempi, si decide di organizzare un convegno femminista. La leader di questo convegno, la dottoressa Yalola Maiorca dell'Università di Milano, comincia a parlare alle donne. Donne! Vi raccomando di essere forti! Noi siamo superiori agli uomini! Dobbiamo resistere e combattere! Siete tutti con me! E tutti applauso. Brava! Brava! Viva le donne! Viva le donne! Dopodiché la dottoressa comincia a fare una premessa. Allora donne, io voglio dare una dimostrazione del nostro movimento femminista. Voglio chiamare tre candidate, una da Milano, una da Roma e una da Palermo. E vi faccio vedere che in 15 giorni cambieranno tutto nella loro vita e cambieranno i loro mariti. Si facciano avanti le candidate! E si presenta Susanna da Milano, Maria da Roma e Rosa da Palermo. Allora la dottoressa va da l'ora e le dice Allora ragazze, vi raccomando, avete 15 giorni per farmi vedere i vostri cambiamenti! Fate un applauso alle ragazze! E tutti applaudono! Brava! Brava! Un uomo, mentre che stava passeggiando per le vie della città, incontra un vecchio amico. Uè, Gustavo! Come stai? Quanto tempo ha che non ti vedevo! Uè, ciao! Come stai? Uè, Gustavo, che ti è successo? Ti vedo strano, Gustavo! Ma che hai avuto? Perché? Cosa mi vedi di strano? E allora? Non lo so, Gustavo, non lo so, mi sembri un po' affinocchiato, non lo so, un po' gay. E allora? Perché sono gay, sono affinocchiato, non sono normale? E allora? Tu come sei? Non sei normale? E allora perché io sono gay, non sono normale? Che cosa vorresti dire? No, niente, Gustavo, per carità, io non so, non è che sto dicendo niente. Ma tu quanto tempo ha che sei gay? Io, io sono stato sempre gay, non solo, nella mia famiglia sono tutti gay. Mio padre, mio fratello, mio zio, sono tutti gay. E allora che cosa vorresti dire? Niente, Gustavo, un bocca al lupo, buona fortuna. Ma sei sicuro che nella tua famiglia siete tutti gay? Non c'è nessuno a cui piacciono le donne? Eh, le donne? Sì, qualcuno c'è. Ah, hai visto meno male. E chi è? Mia sorella. Uì, 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 uì.